La chiusura per 15 giorni di pub e ristoranti nei maggiori centri scozzesi rischia di mettere sull'astrico migliaia di persone. Lo stop durerà fino al 25 ottobre. Solo in certe aree alcuni esercizi potranno restare aperti, col divieto di vendere alcolici. Si spera che la misura contenga l'insidiosa infezione. Scattano i controlli stradali per chi entra ed esce dal centro urbano di Madrid in Spagna. Le autorità vogliono ridurre la mobilità della popolazione della capitale, mentre i bar e i ristoranti devono operare al 50%. Le restrizioni non equivalgono a un vero e proprio lockdown. La situazione sanitaria spagnola relativa al coronavirus è critica. I contagi giornalieri si tracciano a 5 cifre. Dal 5 ottobre, per 14 giorni, è scattato il coprifuoco sanitario anche in Repubblica Ceca, con raduni interni al massimo di 10 persone ed esterni al massimo di 20. Ridotte tutte le attività culturali e sportive, ma contingentamento anche per le funzioni religiose. Sono state chiuse tutte le piscine. L'esercito croato ha montato tende da campo presso l'ospedale universitario della capitale Zagabria, che serviranno per il triage delle persone bisognose di assistenza sanitaria. Anche in Croazia le misure di contenimento della pandemia somigliano a quelle dei paesi vicini e sono commisurate all'entità della popolazione.